Il presidente russo Aleksandr Lukashenko, in un'intervista con la BBC, ha affermato di essere pronto a sedersi al tavolo con Svetlana Tikhanovskaya, solo dopo che Vladimir Putin inizierà i negoziati con Alexei Navalny. Allo stesso tempo Lukashenko ha espresso l'opinione che Putin non lo farebbe mai, poiché per Lukashenko Navalny non è un oppositore, ma è un traditore degli interessi della Russia. Il giornalista della BBC aveva ricordato a Lukashenko che Putin ha invitato le autorità bielorusse a dialogare con l'opposizione.